Tanto sconcerto tra i sindacati all'indomani dell'annuncio di nuova cassa integrazione alla Fiat di Termoli. In un momento in cui sembrava si tirasse il fiato a seguito di un'annata trascorsa all'insegna del ricorso agli ammortizzatori sociali, queste tre nuove settimane di CIG per tutto il settore e cambi non lasciano intravedere nulla di buono. E' una tegola che ci è caduta in testa. Non pensavo ci fosse una così richiesta corposa di cassa integrazione. Sembrava che stavamo in questi giorni precedenti alla luce del famoso tunnel, stavamo intravedendo una luce anche in virtù del fatto di commesse annunciate da parte della Turchia per quanto riguarda il cambio C520. Un po' più critico è il fatto del cambio, ne eravamo consapevoli del C546 legato ai furgoni della Seval perché non è che non si producono più furgoni ma perché è stato sostituito da un cambio nuovo, ZF è automatico, quindi è un problema. L'accordo con la francese PSA passa a questo punto in secondo piano. Fimcesle chiede così risposte concrete alla Fiat sulla produzione dei nuovi motori annunciati ma non ancora avviati, così come le linee produttive che devono essere ancora riviste per il passaggio all'ibrido. Ma più che altro anche il ruolo che l'impianto di termo gli avrà a seguito dell'accordo con i francesi di Peugeot Citroën. Chiediamo all'azienda perché queste situazioni diventano piuttosto pericolose, passatemi il termine, piuttosto che vedere in merito un'eventuale soluzione per questo benetto cambio. Poi dall'altra parte c'è l'altra parte, l'altro stabilimento dei motori che meno male per fortuna sta lavorando a 300 all'ora e quindi quelle deficienze, insomma quelle mancanze di produzione che stiamo subendo da parte dei campi vengono compensate da parte dei motori quindi con una transumanza, passatemi il termine, di lavoratori, quindi spostamento di lavoratori dell'appartenuta a cambi verso i motori. Ma non basta, noi stiamo chiedendo pure ecco quando inizieranno i lavori di questo nuovo motore, il famoso Flyfire, visto che adesso siamo come dire alla vigilia, alle porte di questo eventuale, quindi alla ratificazione della ratificazione dell'accordo con PSA, quindi FCA e quindi Termoli come si colloca insomma nel futuro prossimo di questa eventuale fusione. Grazie a tutti.